bella a tutti ragazzi bentornati dal vostro gioco e siamo ritornati in un nuovissimo appuntamento di titanfall allora ragazzi come vedete siamo su punti di controllo praticamente bisogna catturare tre punti e spaccare il culo a tutti quanti io raga questo gioco lo facendo perché ho visto che vi sta piacendo quindi mi raccomando tantissimi like per continuare e fare altri video su questo fantastico gioco mi raccomando arriviamo almeno dai vi prego a 2000 2000 mi piace 2000 non sono moltissimi quindi mi raccomando cliccate un bel mi piace per continuare questo fantastico gioco quindi cominciamo che straci io so pronto mo spaccolano a tutti raga quindi sbrigatevi a reggere bene la opportuna mettetevi come mi pare a grappare ai muri che mo spaccamo e raccola tutti ok eccoci qua ci prendiamo il fuciliere e ci prendiamo il boh che ne so che sappiamo questo qua sappiamo il primo ma che se ne frega va siamo pronti qua esplode tutto che cazzo è qua ah ok perfetto vai siamo arrivati salve 46 carini volete siamo pronti perfetto dai andiamo regà sto pronto spaccamo raccola tutti punto di controllo perfetto andiamo a prenderci a ok sta qua eccolo qui vai a conquistiamo a pronti ma che tutte femmine sono tipo mezza cosa vai andiamo in b faccio una scorciatoia tutta mia guarda è du li li du la la e adesso vengo qua e ci sta nessuno non c'è nessuno io vado qua vai giocherino oh 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 non mi ha sparato a me e non mi ha fatto niente male raga c'è cazzo ma c'è nessuno non mi ha fidato per niente raga come si dice la guida di prima della tempesta infatti guarda eh ma lancio pure io oh cazzo mi sono lanciato pure io dove stanno raga non mi ha risposto oh cazzo aiuto c'ho paura sono morti che culo raga non so dove mettere me c'ho una paura fottutissima che mi vengono ammazzare non per me il culo va conquistato bella così bella così quanto so forte bravo jogger aspetta qua mi sa che vengono vengono ci siamo raga ci siamo jogger mega azioni mega salti mega 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 caino ancora non ne ho ucciso uno comunque da notare questa cosa eh vai raga oh cazzo andiamo qua a dove eh ce sto a bravo ce sto oh cazzo oh cazzo no punto di bravo no bravo eri qui dove stanno dove cazzo è stato raga eccolo i mortacci due amori uh bello così ah 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 riprendiamoci bravo riprendiamoci bravo vai mi tocca con questa puntata solo mi tocca fa oh l'ho ucciso io tranquillo eh perfetto vai ci siamo e questo ce lo siamo ciullati ragazzi dai tocca andare andiamo in A ce ne andiamo in A andiamo se ne A vai oh cazzo quanti sono oh cazzo dove stanno ah no andiamoci nel C va tanto qui si stanno sfracellando tutti quanti in B noi se ne andiamo in C che là lo stanno già conquistando comunque dai dai eccoli eccoli o le o le ma e boom mazza tutti baffanculo ammazzo oh porca la paletta puttana maronna mia quanto era grosso c'è proprio un pisellone con mega galattico l'immortacci suo quanto era grosso ragazzi bastardo ma che pensi di farmi paura te pensi di farmi paura dove stai dove cazzo starò io anch'io il titan e come faccio il titan ah da tre secondi oh cazzo vai no non è questa ok eccolo regà oh boom non l'aggancia ah ecco vai boom perfetto giocherino va che t'aiuto io johnny t'aiuto io johnny vai eccolo eccolo boom non sono stato di uccidere il mio regà eh non sono stato di è scappato è scappato il frocio è scappato il frocio l'hanno ucciso me sa bello l'hanno ucciso grazie a me l'hanno ucciso oh c'è qualcuno trasparente regà ho visto qualcuno trasparente qua io eccolo il mortacci sua guarda guardalo mortacci bastardo a pezzi tiro boom calcio in bocca calcio in bocca regà oh merda io sparò qua tiè boom vaffanculo madonna mia ragazzi quanti sono boom madonna mia ragazzitti si chitti che se l'ammazzo così dice oh cazzo no oh merda non so quello che sta succedendo boom ma vabbè era impossibile regà è pieno di titani qua in mezzo porca puttana lo posso prendere pure io dai andiamo fuori piazza su titano va dove sta va fammi arrivare no ma fuori me lo fai arrivare mortacci sua dai dai è mio è mio non si docca è mio è un braccio mio ok perfetto qua vai ci siamo cortitano cortitano mi sento più forte tacca dal cazzo boom mamma mia ragazzitti siti tutti vieni qua berdina vieni qua merdina mamma mia ragazzita boom 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 no sono esploso pure io quanto sono stronzo io perché mi scordo che questi si esplodono io non ci devo andare vicino me lo scordo cazzarola ho fatto un oh che cazzo ho fatto ragazzi ma me lo sono buttato ma sono pure stronzo oltretutto andiamo bene ragazzi comunque non è possibile che io capito sempre con le squadre di mongoloidi stanno in team in 18 in me e non riescono a conquistare un cazzo di punto porca puttana quanti sono double kill double kill ma vaffanculo potete essere dei droni non me ne fotte proprio ho ammassato tutti sono più forte lo stesso andiamo qua in vita che c'è stato solamente io porca miseria quanto sono scemi questi oh cazzo zitti zitti ragazzi zitti meno male che sono tutti i droni meno male che sono tutti i droni raga meno male meno male aia aia me nascono qua un attimo oh cazzo mi sa che ci sta vai conquista gioccherino conquista bravo gioccherino oh 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 me la posso prenda felice e stracontento oh io ti ammazzo oh 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 devi trapender culo oh cazzo oh cazzo vai pezzettino di merda chiappa di questo tanto boom bello così vai giocherino no è scappato sto faccia da culo vai datemi il titan datemi il titan oh cazzo eccolo regà eccolo perfetto vai cortana vai cortana mamma mia quanti like voglio stamattina regà quanti like voglio ma proprio tanti ma proprio tanti da morire tu brutto tana ti vengo a piandere e ti spacco nel culo boom mamma mia ragazzi mamma mia zitti 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 proprio zitti proprio boom mamma mia regà aspettate fermi questa è una mossa galattica guarda che come non sciolans che non sciolans ragazzi no sono esploso porca paretta però è morto per lui dovrebbe essere morto l'ho ucciso dovrebbe essere morto comunque ragà beh ci ha capito un cazzo quel titan era un po' diciamo mezzo sprecato dove stanno qua oh cazzo porca puttana questo stava con lo shotgun sto faccia da culo vedo carriannace rianniamo un B rianniamo un B ma il B l'hanno preso il B l'hanno preso ok il B l'hanno preso stiamo perdendo un'altra volta A e porca puttana porca troia ci sono appena arrivato da A come cazzo hanno fatto a farlo via A ma tutto un vabbè vaffa culo l'antarandrone e chi se ne fotte da te te sarto sul cranio proprio vieni qua vieni qua oh cazzo oh cazzo devi sarto sul collo vieni qua vabbè vaffa culo metto il capito metto il bazooka qua vai così pum e vattene a pia nel culo oh cazzo quanti sono ragazzi c'è una stracce pur siamo persi non me ne fotte proprio te sparo lo stesso a tt attaccata il cazzo oh vai e vattene a pia nel culo un'altra volta a malamare più nessuno aia vaffanculo io come al solito perdo sempre porca mi sembra tocca sempre fare un spettatore alla fine ma che è questa quanto sei brutto ma quanto è brutto sto personaggio sì ciao lo comune matrix può fare andiamo bene c'è uno scontro megagalattico c'è gente che esplode ovunque ci sono evacuati li abbiamo fatta che culo sono uscireva qua davvero un segreto un segreto siamo evacuati quindi chi ha vinto no non mi ho perso a prescinde comunque ma vaffanculo tanto mi ho perso vabbè ragazzi ci sono tornato al menu principale io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando mettete tantissimi like bei polizioni così vedo se continuare altri video su titanfall poi semmai ci farò anche un video con mio fratello vediamo un po' un attimo se vi può piacere quindi scrivetelo nei commenti mi raccomando ragazzi ci vediamo un po' se potete mettere il vostro gioker tantissimi like a meno 2000 e faremo un altro video semmai con ciccio game 89 bella ragazzi e faremo un altro video